Buonasera, vi vorrei parlare del caso dei migranti che sono sbarcati a Malta, delle navi Sea-Watch e Sea-I. Come sapete, la Chiesa Valdese ha dato la disponibilità ad accogliere famiglie, bambini, nuclei familiari, poco più di 10 persone che verranno da loro ospitati a loro cura, senza oneri a carico dello Stato italiano. Cosa significa tutto questo? La linea in materia di politica di immigrazione del governo italiano è cambiata? Assolutamente no. Su questo il governo è compatto, il governo assolutamente non cambia idea sul fatto che occorre una linea di rigore. Non bisogna più offrire nessuna sponda al traffico illegale di migranti, bisogna contrastare con tutte le nostre forze questo traffico, quindi bisogna perseverare negli orientamenti già sin qui assunti. Un caso eccezionale, una soluzione eccezionale che rivendico, non mette in discussione la linea di fermezza del governo, la coerenza della nostra azione, come non l'ha messa in discussione l'intervento che subito, prontamente abbiamo fatto, nel caso della nave di Ciotti, per le persone più vulnerabili. L'Italia rispetta gli impegni, rispetta le regole, ma chiede reciprocità. E' per questa ragione che ho sollecitato il commissario Avramopoulos, affinché si faccia carico anche della redistribuzione dei migranti che sono sbarcati recentemente a Pozzallo, a Catania, e che non sono stati ancora ricollocati. Vogliamo che anche gli altri Stati membri dell'Unione Europea si facciano carico e diano seguito agli impegni assunti. L'Italia è coerente, continuerà a contrastare il traffico illecito e illegale di vite umane, continuerà a tutelare la sicurezza e gli interessi dei cittadini italiani.